ma la facciamo finita o no? ho trovato uno scotch bella frate ho trovato un non so se mi è cascata a me perché ho appena messo sempre sotto al ponte frate così che non smette da abbagliare ho fatto frate e ho inviato già ho già spedito a mio padre i documenti e me ne posso andare ho comprato il biglietto sabato 20 ottobre parto porto a torres barcellona e il biglietto l'ho pagato 123 euro perché la tessera camper life 10 per cento di sconto il biglietto era 135 perché il discorso l'ho fatto qua l'altro giorno io non partecipando al gioco della società degli edifici uffici e bla 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 comunque rinuncio a un sacco di cose frate rinuncio a un sacco di vita un sacco di storie che accadono di là vedi perché lì c'è un sacco di vita comunque un sacco di personaggi cose che accadono ci accade di tutto non è non è negativo vedi io non dico che la società è negativa che di là è tutto negativo che ah io non voglio stare di là e che per fare vedi per fare singa vieni qua e che per fare il mio gioco cioè per avere successo in questo gioco adesso di youtube che poi non è totalmente quello che io vorrei fare vedi questo è l'inizio di quello che io vorrei fare come gioco però devo per forza rinunciare a quello che il focus deve essere in quello che tu fai e voglio fare questo magari domani cambia magari domani mi rimetto di nuovo di là che faccio il mio gioco di là però se mai dovessi rientrare voglio rientrare facendo il mio gioco che sarà il gioco quello di filmare di non lo so però capito quello è il discorso non sono contrario non sono contrario per la famiglia devo rinunciare vedi prima ho visto una ragazza bellissima ho detto vedi devo rinunciare anche a questo alle belle donne anche a vederle perché poi facendo sta vita da solitaria non è che le vedo specialmente in mezzo alla natura le donne non ci sono io per scherzare dico al cemento offre offre specialmente quello ok le donne sono come i fiori no che nascono da da dal cemento capito sai quell'erba no che vi dice wow no te fa effetto di perché dico non è la cosa più facile perché rinuncio a tutto quello sia anche al negativo al traffico allo stress ma lì non è tutto negativo non è che se state lavorando avuto solo momenti negativi c'è quante storie quanta gente ha conosciuto quanti momenti stupendi e quanti tramonti vedi un sacco un sacco di cose per te vedi non è che sono contro si dice armare la pennica è normale io devo pensare per forza che quello che sto facendo è la cosa migliore da fare cioè la pennica armare ma non è la cosa eccezionale non è la cosa più bella vedi non è la cosa più bella non è quello che tu fai non è quello che tu fai è una cosa capito ma sono sicuro comunque sia che ci sono milioni di persone che non fanno questo eppure sono felici vedi vanno avanti nella società singano e amano fare quello ma non credo di essere migliore degli altri e neanche peggiore degli altri vedi né sopra né sotto ok alla pari tanti purtroppo fanno fanno dei giochi che non vogliono fare vedi pagare le bollette pagare quelli perché si sentono incastrati io spero che che queste persone non so neanche se spero perché in realtà io non li vedo io sono egoista poi alla fine vedi penso a me penso a me penso a quello che devo fare io e penso a me penso al mio gioco a quello che devo fare io e guardo veramente poco e penso veramente poco a quello che stanno facendo gli altri se sono felici se non sono felici quindi non me li chiedo queste cose c'è osservo ma in modo passivo giusto così per vedere che so le macchine che passano ma non sto la a pensare vabbè fra poco mi avvio e vado vado a sassari da bricoman che devo comprare la tazza del chef vc la cambio questa qua perché è inguardabile prendo quella almeno col coperchio un po' più grande che sembra tipo una cosa di casa e ovviamente il bagno lo devo finire ok non è cioè è orrendo il bagno così non è inguardabile però ci sto lavorando sopra e poi sono cosciente che grazie a chi fa quel gioco lì io sono in grado di vivere cioè se il benzinaio non facesse il benzinaio ma io non vado a mettere benzina se il commesso non facesse il commesso lì anche alla posta no quelli la io dove vado a ritirare il pacco vedi cioè non posso dire che come faccio a campare se tutti decidono da fare sta vita o da uscirne fuori cioè come campi si poi ti inventi in altro modo comincerai a zappare la terra far crescere i prodotti ma adesso come adesso in questo momento io l'unico modo per vivere grazie comunque sia a chi fa quel gioco la chi fa le strade che a chi fa i punti vabbè alla fine l'altro materasso l'ho buttato via perché ovviamente era più stretto quindi questa sopra si piegava dormo una favola proprio dopo da paura che c'è questo è proprio fantastico 60 euro su amazon e la ditta si chiama mia suite sede hanno la sede a napoli che è mia suite stanno sia su amazon che su vabbè lo trovi su google c'hanno il sito internet questo era uno un'offerta 60 euro waterform e 60 euro invece sta bene largo largo perfetto o stanotte alla stanotte mamma mia non si sa che ha fatto stanotte io di solito non mi sveglio no quando dormo a stanotte sentivo proprio questa c'è l'acqua che ha fatto stanotte una cosa assurda però è uscito il sole tutto a posto bene vado di là subito da da quei parti perché il meteo dice che che di là c'è il sole dalle parti di porto torres al ghero capito e per quello che mi sposto altrimenti qua sto bene non ho dormito qua stanotte stavo lì a golfo aranci e le cinque spiagge la terza spiaggia via me ha visto la 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 moschiera si chiama tenda moschiera vabbè zanzariera moschiera e quella con la calamita c'è nera nera e non è proprio fotogenica non è però fa lavoro suo non so quanto quanto dipende poi dove vado se dove vado non ci sono mosche e zanzare la levo però qua con le vespe con le mosche è perfetta vabbè 20 euro su amazon e andiamo a sassari dai dai orevoare olbia orevoare nuoro cagliari a sassari a sassari di qua ciao it але bu ast